Da alcuni anni a questa parte le difficoltà per procedere all'assunzione di assistenti bagnanti sono sempre maggiori e non si parla di piccole concessioni ma anche di grandi strutture alberghiere. Di questo e di come rendere le spiagge dell'Isola d'Elba più funzionali e sicure si è parlato nei giorni scorsi in un incontro nella sala consigliare del palazzo dell'ex biscotteria al quale sono intervenuti il sindaco Angelo Zini e l'assessore al demanio Leo Lupi per il comune di Portoferraio la Capitanere di Porto, la Fin Salvamento, Conf Commercio, Conf Esercenti e CNA. È emerso che in un contesto come quello delle attività balneari che per sua natura comporta un costante margine di rischio le parole d'ordine sono sicurezza e responsabilità. Da qui la necessità di sensibilizzare al rispetto di ruoli e mansioni quella minoranza di imprenditori balneari che ancora pensa che l'assistente bagnanti sia una sorta di manutentore da utilizzare per ogni tipo di esigenza. Per ovviare alla carenza di assistenti bagnanti il comandante della Capitaneria di Porto ha suggerito il ricorso all'istituto del servizio collettivo di salvataggio previsto dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare che consentirebbe a più concessionari che occupano aree limitrofe di consorziarsi. Per aumentare il livello di sicurezza della balneazione nelle aree di costa molto frequentate dove non insistono attività commerciali è stato deciso di posizionare gavitelli biconici rossi per segnalare la zona di mare interdetta al transito delle imbarcazioni a motore. Si inizierà inoltre a progettare a livello comprensoriale e con la collaborazione della stessa Capitaneria di Porto, della gestione associata per il turismo e degli imprenditori privati, una serie diversificata di piani collettivi di salvataggio svincolati dalle singole concessioni demaniali e modulati in funzione delle caratteristiche delle coste, comprendenti anche zone di spiaggia libera.